ciao a tutti venuti a questo video di magis of lotus oggi parliamo del top 8 del pauper gheddon che è avvenuto questo weekend quindi pauper gheddon 2024 pisa ovviamente di cominciare mi piace commentare scrivi al canale soprattutto abbonarvi che la maniera più diretta per sostenerci e notte vi ricordo il nostro sponsor fantasiastore.it qua vedete lo shop direttamente sul loro sito ci sono già un po di prodotti scontati ma se trovate come probabilmente sarà perché so che siete interessati alla roba di moda horizon 3 non pensate che non non vi lega nella testa con noi avete lo sconto a prescindere perché 5 perso di sconto sui prodotti non già scontati con lotus 5 trovate qua sotto ma comunque insomma l'ho trovato ovunque sul nostro canale quindi raga qualcosa lo trovate quindi dagli e anche perché sono dei bei deck spicy e servono le carte di mh3 allora cominciamo perché non voglio fare un video lunghissimo e dettagliatissimo numero 1 l'altra piccola promessa poi davvero vado marco è andato al pop e gheddon purtroppo è andato male ha fatto 23 drop quindi non ha continuato perché poi voluto dedicarsi ai side event ea fare a stare con voi da quanto capito girare con per l'evento contrar persone insomma a cazzeggiare che ci sta le pubbliche relazioni come colonne cazzeggiare sono gli si offende che di cui cazzeggia e quindi niente tanto male aveva portato ponza che è uno dei deck fighi e diciamo rivoluzionari di questo periodo ma adesso ne parleremo breve e basta no in realtà anche un'altra cosa bugia poi vado davvero faremo ovviamente una live della cosa marco darà poi il suo punto di vista come si è trovato insomma tutte le classiche cose un resoconto e secondariamente probabilmente perché bisogna capire quando come e perché e soprattutto se accadrà forse 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 un'intervista al vincitore del pop e gheddon ma vedremo è ancora un forse non ho ancora sentito bene marco io non ho sentito direttamente il vincitore non ero lì e lavoravo quindi non non so i dettagli ma vi dico che nell'aria forse c'è quella cosa lì allora vincitore abbiamo filippo pezza complimenti con ractos barn ractos barn vi avevo effettivamente detto che era un mazzo forte da portare per questo evento c'era tantissimi mazzi midrangiosi e punirli avendo un array una salva di botti continua è un ottimo modo perché i mazzi midrange classici delenio non reggono ben i botti cioè o giocano i counter che comunque puoi fare l'effetto bottleneck nel senso che mi tengo tanti botti in mano e c'è il tiro in fila e quindi tu non puoi conterarli tutti perché non puoi stare open di 100 miliardi e poi non ne avrà infiniti e poi è un mazzo che sta abbastanza bene dal ratto perché può scartare sull'effetto del ratto usare madness per comunque un bot è un mazzo botti che si basa su madness grazie appunto fieri tempere altre carte e basta queste le di base questa lista un po spicy che qualcuno l'ha provata era dell'aria non è una novità super ultra completa ma è un racco sbar che gioca la sneaky snacker perché perché allora di chi snack è un'ottima carta che uno può scatta la pulsurato di cacchio se ne frega ciao è un'ottima carta da scartare soprattutto anche sui vari blatto che fa questo mazzo per questo mazzo appunto vuole scartare le carte inutili su blatto tempo per scavare trovare i botti per ucciderti per questo è molto forte perché un botti che non finisce al gas e e snick snacker è perfetta perché tu la voglia cimitero non la vuoi buttare in campo e facendo così hai sempre qualcosa da scartare di buono su appunto da sui blatto che non mi parla abbiamo di castarla a mano si pecona al blu non c'è modo di fare blu ma ci sta non la senza giocare in modo di fare blu non fanno anche i tesori mi pare sì infatti però ci ragazzi è corretto è giusto così non bisogna mettere blu sud ecco ovviamente e basta niente di che ovviamente poi migliora anche carte come demand answer e così via mazzo bello consigliato forte molto molto forte e poi posizione numero due gruel ponza allora di giorgio anche va complimenti allora piccola cosa a ponza prima di passare a ponza che ha migliorato tanto e che il fatto che ponza sia migliorato così tanto ha migliorato anche tantissimo la posizione di barna cioè barna nel video che avevo fatto cosa è successo c'era un meta che quello che si aspettava ci si aspettava che il primo video che ho anche fatto io poi marco ha fatto un secondo video se avete notato sul canale in cui ceva i cambiamenti sono stati diciamo quasi a ridosso del del pop per ghetto ma anche due giorni prima e non è proprio una cosa che è successo all'inizio di moto ma in contra e e lì in quel cambio hanno detto ragazzi ponza molto forte e migliorato tanto grazie a un paio di carte che ora vedremo e quindi questo migliorato con di più ratto sbarne quindi è ancora di più un'ottima scelta allora cosa è successo a ponza ponza praticamente ha fatto una piccola evoluzione allora praticamente era uscito un mazzo gr monster gruel monster che sfruttava il grisalis che una carta rottissima se vediamo bene cosa fa ma ero sappiate che rotta ma sicuramente la conoscete già comunque era un mazzo curva rampo 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 migliori con il rg butto le bombe ti ammazzo ma io quando ho visto questa carta perché poi me la proposta ma c'è in realtà quando marco me ha riproposto questa carta ma proposto la lista di gr monster mi ho detto ma ma se fosse ponza cioè perché girare mostra mi pare un po brutta perché sì ok bello ma se l'altro interagisce un minimo morti così è infatti poi che successe ponza adeguato questo piano allora cosa succede adesso ponza gioca pregato un piano molto molto proattivo e gioca tendenzialmente vabbè le case carte che ha sempre giocato rapini eccetera ma a un drop a 4 di estrema qualità in appunto il writing chris chris a crisalis si è pronunciato giusto da p4 a 123 che al cast ragazzi al cast al cast chi se ne frega che risolva al cast ha già questioni what the fuck mette due token 01 che sa che danno umana quindi da 4 mana passi a 6 e se landi puoi già fare le carte che cascano perché costano appunto 7 e già questo dici what the fuck ma non finisce qua 23 buone stats rich quindi già da solo para la sky fisher già da solo trada col delver già da solo vince e blocca i green talk ma non finisce qua non finisce qua ogni qualvolta voi sacrificate un altro e drazzi ficcate due c'è no 1 1 1 1 1 quindi capite che se voi avete due tokenini che vi fate le ficcate già da soli con i cosi che dato vuole sacrificarli per fanno mana due segnalini quindi volendo etapa 4 4 5 modulabile perché splittate le cose insomma le stats con rich che vi rampa cioè che senso e al cast poi c'è comunque un pezzo lo tiene a prescindere anche se l'altro ti fa come taspelli poi questa lista non la gioca ma c'è anche un altro idrati che è molto sinergico con questo che costa 3 2 un verde un 33 che quando entra e quando muore fa sempre un pippo lo 01 che ti amana che quindi se fai la curva con quelle finita perché c'è davvero le peggio cose questo cosa diventa enorme ragazzi questo davvero ha migliorato ponza in maniera incredibile perché da terra non si passa più ha poi anche ottenuto colosso la dread mask si gioca uno per maria lisse tappi 6 con gli ottimo target per cascata perché ripeto le cascate costano 7 fanno equipaggiamento che entra con un germe il germe prende più 6 più 6 e travolgere quindi capite che fate praticamente un dread ma un dinosauro infatti è colosso dal dread mask perché sarebbe il colosso dal dread mauli il dinosauro però in versione equipaggiamento quindi poi se muore il germe e sti cazzi pagate 5 lo spostate rendete il vostro borale il 77 travolgere quando facco allora il mazzo è peggiorato solo un punto di vista gioca molte meno interazioni non ha rimozioni praticamente e vuole solo tolgo le lande faccio pezzoni ti uccido fine non deve fare altro le rimozioni ce la decide altra carta fortissima ragazzi e malevola entrambol questa ragazzi è anche una carta spanata allora riveli ai primi a quattro cartelli grimorio ti aggiungi un permanente in mano tra quelle appunto rivelate le altre nel cimitero e a prescindere fai un token sapro lingio lì si può dire il drassi spona 0 1 del mana quindi a prescindere tu fai tappo 2 rampo e poi prendo pure la carta figa che mi serve cioè ragazzi solo carte figa solo carte figa e infatti presentissimo poi gris fine questo era uno dei mazzi più aspettati del torneo tutti quanti gli avevano messo un milione in testa grosso come una casa poi su numero 3 franco cicchini con punto gris affiniti il mazzo ottenuto di figo il refurbish familiar e l'obiettivo quale pesco 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 ti faccio vari trade uno per uno tanto io pesco tantissime carte e poi ti faccio recursion di carte fighe appunto i mira in forza e refurbish con il black fountain quindi timori scarta le carte stronzo che non è più in mano e ti ammazzo poi tra cresciamo per fare bratta pur sinergica chi può pescare sopra con varie carte perché arte fattine che quando muoiono pescano quindi gg un po cosa dire ma i ragazzi il mazzo è molto forte allora questa lista qua non è quella che aspettavo senza nulla togliere la franco che sicuramente questo un gran giocatore ragazzi non metto in dubbio nulla di tutto ciò dico solo come per completare le informazioni ci sono altre versioni di questo mazzo che sono sicuramente anche performanti quindi va un po in base a scelta cosa uno vuole essere più o meno forte ci sono liste che giocano vari counter che giocano proprio counter spell metallic rebuke o tutte e due e liste che giocano sneaky snacker qua per esempio è la versione un po più classica che ha solo messo i refurbish familiar e gioco ancora i kenku così via c'è chi gioca a sneaky snacker perché ha una buona sinergia con i vari pesca 2 del mazzo perché tu se fai un pesca 2 nel tuo turno che tanto lo fai molto spesso perché il mazzo fa quello e tu la rianimi stato un'ottima sinergia per potessi fare gioco la sneaky snacker perché comunque sei un mazzo gris quindi ub ce l'hai capo 2 sneaky snacker faccio reconnaiss bargain sacrifico la sneaky snack guardano due vite ma essendo che un costo dizionale sacrificarla dopo risolve dopo il fatto che peschi due carte e quindi con quella di turno fa 3 e la rianimi quindi tu hai pagato niente perché il costo dizionale praticamente non c'è stato perché ti ritorna in gioco tappata goblin combo lorenzo che qua complimenti mazzo molto forte perché perché goblin combo è un mazzo che anche bisogna giocare super dritto e fragile al greve it infatti molti complimenti perché due testicoli grossi come una casa perché questo era un pau per geddon che sicuramente molta gente le ha portato tantissimo greve it per evitare varie recursion eccetera aggressioni affiniti ratti eccetera però saperlo giocare bene questo mazzo ti premia perché sai navigare bene contro late e quindi vincere giuro ai comunque vari spot per vincere perché non c'è tutto questo greve it già subito di giuro anche se pieno di mazzi che comunque un po c'erano ma insomma non è super ultra mega sviluppato e anche se bisogna ripeto far occhio perché c'è tra ben charme in più insomma così via però complimenti e perché è forte perché resiste molto bene a resistere option fatta anche da ratto perché tu le carte il fatto di scartare le carte anche se scarti i pezzi della combo ti può fare quasi piacere perché te li sconti perché poi li animi con la nerf quindi in realtà magari uno ti fa ratto in realtà si suicida perché tu ti scarti un pezzo della combo scontando di new mana tutta la combo riesci magari a scombare il turno dopo perché grazie grazie mi ha fatto scartare la carta che volevo anziché doverla pagare la posso reanimare gg mentre magari non avrei avuto modi auto scartarmi la senza pagare nel mio turno wall cascade anche qua complimenti a gabrile mazzo bellissimo perché è forte perché se molta gente porta ponza come poi appunto si è aspettati in questo massimo di mente forte perché allora ci sono modi che muori per comunque in poche terre nei giochi credici però un mazzo che ha tante creature che aggiungono mana quindi se tu soprattutto se on the play e ci spesso a fare pezzo che fa mana velocemente ecco anche se l'altro ti passata la landa comunque modo di giocare ce l'hai perché hai i vari manano che sono i muri un'altra cosa molto forte che gioca 4 quindi un ranger quindi un ranger è uno dei peggiori nemici per ponza perché cosa dice rimbalza di una foresta che controlli e sappia la creatura puoi farlo una volta per turno attenzione non dice una volta nel tuo turno per turno nel tuo turno puoi farlo anche con l'altro se l'altro di targhetta la terra con il suo slando tutti poi della foresta tra poi rimbalzare stappi nella creatura a caso e sia a posto cioè non ti spacca la ce l'hai in mano che ti mani dentro di terra è una rottura di d'accordo ma non è rotta quindi io turno dopo comunque l'endrop ce l'ho assicurato la rigioco questo è un grosso problema per ponza e quindi gg l'unica cosa è essere foresta ma c'è anche un altro motivo per cui molto forte ponza gioca e si basa molto anche sul ramp dato del suo slando perché gioca questa qua il muschio il mauli è simboss che però sempre indira il target non rampa quindi gazzarola questa no ottima giocata per il resto è un che vuole scombare tramite i muri è però ottimo piano b anche comunque tirati addosso le creature grosse tramite punto cascata comunque a pezzi con iniziativa quindi può fare fast iniziativa può fare fast grossi generi utente che va a cercarla l'anda in caso completo grosso insomma a un piano migliore anche decente poi abbiamo rato sbarro di andrea anche qua è come quello del vincitore praticamente stessa lista e anche qua giocati che ci sta alla fine una buona scelta ragazzi è un ottimo modo per avere sempre cosa a scartare quindi le stesse cose con detto prima poi collota red qualcuno tarai da allora molte persone non se lo aspettavano perché ha detto ma rosso non è fortissimo non è bello mi piace però un po l'abbiamo anche detto occhio ragazzi non sottovalutatelo magari c'è meno gente che lo porta ma qualcuno lo porta perché comunque fortissimo e quindi sottovalutarlo quindi dire vabbè tolgo le carte di side mi tolgo il piano forte contro rosso contro i massi aggressivi e poi infatti perdi perché in realtà è comunque migliorato perché di nuovo c'è ponza ponza e compagnia cantante soprattutto on the play per questo mazzo quando on the play non lo giustiscono bene e quindi ci sta poi post borne al discorso sono altre carte guarda la storia quello che volete e soprattutto anche peggiorato un po il match up perché ponza scusate di gola e ha ottenuto appunto il drastico detto prima che fa tre pezzi sostanzi tre pezzi considerato che preparare molto bene poi tutti i vari pezzettini che fa monorosso per questo più appunto creature based e cerca di scombare facendo cool dota più alti pezzi in caso into bush walker e quindi se tu vari pezzi puoi parare e non morire però è comunque non è facilissimo per gestire la ponza cioè può fare delle mani che non ha quella roba lì non ha chissà che controllo non ha le promozioni quindi inizia a girare 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 poi alla fine le creature basta che hanno fatto un po di danni e al resto lo fa di botti e quindi gg e quindi comunque il mazzo già migliora un po di più perché anche questa cosa qua e poi ultima posizione qua ottima posizione se sono ottava nato potto gli combo di salvatore anche qua tantissimi complimenti perché qualche pazzo grave portato una versione forte di brut scale ce l'aspettavamo però certo ogni incognita è ma come lo giochi giochi bg lo giochi così cosa che non è optato per una versione jand gioca il rosso per batte con crack la shaman e una combo chiusura il molten gatekeeper che quando scombi con la baschi e ti uccide tutto a p3 o panert un malarosso d'organimi 23 quando una cartura che poi battere sotto controllo per un danno ogni avversario facendo infiniti 0 1 con la combo che entra in gioco tu fai finiti danni al loppo evolution witness per recursion e come piano mid range il crisalis e quindi perfetto è molto forte quindi alla fine fai giochiamo che qualche carta rota abbiamo anche un buon piano mid range tra l'altro gli contesti tokenini che girano già per terra e forte perché tu è facile che hai sempre un tokenino 0 3 e 0 3 0 1 scusatemi nel dratti per terra così manca devi pagare di umana per far adattare perché stufa a questo punto è già un 0 1 dato da questo tu fai brut scale con gli sacchi lo 0 1 a caso fatto prima e poi scombare una combo calello ripeto per chi non la conoscesse fai questo affare con gli il glia di questo incantesimo che adesso ve lo trovo tra di stigli questo qua allora la cartura incantata prendi un segnalino più uno più uno ogni volta che la cartura muore cosa la lucertola quando ci ficcio il segnalino più più uno più uno se non dice una volta per turno in generale ci crei un eldrati spawn 0 1 quindi capite che facendo lo spawn 0 1 che si autosacrifica per mana colorless rifate ritriggerare glee quindi fate un altro spawn quindi posso risaccarlo quindi ritrigger con altro spawn e fate infinite trigger di gli affari che entrano escono robe così quindi puoi uccidere con molte in moto anche anche altri modi per uccidere ma questo mazzo può principalmente a questo più altri modi per comunque la bruce che diventa infinita infinita prove varie e questa è la versione quindi ragazzi stavate cercando la versione parlo certo volate provarla questa potrà assolutamente provarla mi pare molto molto bella non viste anche altre non viste anche altre però questa è molto figa e l'agentario rosso per il piano mid range con il crisalis e altre carte sinergiche come il gatekeeper e altro mi piace molto alla veloce il meta allora altro che era una buonissima percentuale la gigante tanto che si affitti tantissimo ponza tanto ragno smedness che ragazzi infatti avevamo detto che è molto molto forte migliorato poi la parte delle tre posizioni prime tre posizioni con nome perché adere senza nome e è un calderone pulota red e orzo blade mi spiace corso me non si è arrivato così abbastanza in alto bisogna ancora vedere un po magari la top 64 dove pubblicheranno insomma vedere un po se ce n'era qualcuno però comunque 32 già dei due è un buon numero considerando che questo era il dei uno dei due a qua vediamo direttamente un po la conversione vediamo tra virgolette un po come la conversione ha descalato tanto ma ci sta perché molta gente nata for fun quindi sta che si è calato ponza altissimo ragazzi ma il passo tutti grazie 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 grazie